L'Arezzo perde ancora e come sette giorni fa Pistoia perde senza meritarlo. Un segnale poco incoraggiante per Pavanel alla ricerca di nuovi equilibri tattici e psicologici con il mercato che chiude mercoledì. Gli Amaranto giocano a tre in difesa mentre in attacco si ricompone la coppia Cutolo-Moscardelli. Il Piacenza vince capitalizzando un primo tempo cinico indirizzato sui binari giusti grazie al penalty concesso dall'arbitro Miele di Nola dopo appena due minuti. Sul cross di Togurdo il contatto decisivo è tra Luciani e Corazza. Per il direttore di gara il braccio del difensore è da considerare falloso. Lo stesso Corazza si presenta sulle dischetto in fila Perizan con un'esecuzione non proprio perfetta ma efficace. L'Arezzo passato il momento di sbandamento rialza la testa e si butta avanti e Cutolo il più sollecitato in questa fase di partita. Il numero 10 si muove molto e svaria su tutto il fronte d'attacco cercando l'assist per i compagni e la conclusione personale ma senza la giusta fortuna. Il Piacenza si difende nella sua metà campo e alla prima vera ripartenza raddoppia. A chiudere in erete l'azione concertata da Dimolfetta e Pesenti è proprio Corradi che la butta dentro davanti alla sud e poi non esulta. Per l'ex Amaranto è il primo gol in stagione. All'Arezzo gira proprio storta. Al quarantesimo su angolo di Cutolo Fumagalli con l'aiuto della traversa nega Sabatino il gol che avrebbe cambiato l'inerzia della partita. Pavanel nell'intervallo toglie Durzi e fa debuttare Campagna, poi fa entrare anche Regolanti per Ebbenucci disegnando un 4-2-4 d'assalto per inseguire la rimonta. Franzini schiara i suoi a difesa degli ultimi 20 metri. Per il Piacenza è la terza gara in sette giorni e l'Arezzo ne approfitta dal quarto d'ora in avanti aumentando il forcing in attacco. Moscardelli e Fumagalli ingaggiano una sorta di duello personale fino a quando Sabatino non si inventa la giocata giusta, dribbling e contro dribbling su Di Cecco che lo stende dentro i 16 metri. Miele non ha dubbi nemmeno stavolta e assegna il secondo penalti di giornata. Moscardelli freddissimo spiazza il portiere e riconsegna qualche speranza alla curva Minghelli. Dagli ultimi generosi attacchi gli Amaranto però spremono pochissimo e le Piacenza assorbe l'urto. Anzi nelle battute finali Perisane si guadagna un bel voto in pagella neutralizzando Morosini. Nell'uno contro uno è l'ultimo episodio degno di nota finisce 2 a 1 per il Piacenza con l'Arezzo che mastica Amaro un'altra volta. Con altre due penalizzazioni in arrivo il 2018 lancia un chiaro messaggio il girone di ritorno non sarà una passeggiata.